Buonasera, grazie, grazie Michelina di questa ricca e generosa introduzione, grazie a tutti voi che siete qui, agli amici che vedo qui davanti. Non vi preoccupate, avete ascoltato i titoli dei miei libri, comunitas, immunitas, bios, non parlerò in latino oggi, e invece tematizzerò questo rapporto tra comunità e violenza. Attenzione, non dandomi il mio punto di vista, ma dandovi il punto di vista di una interpretazione, di una rappresentazione che ha unito questi due termini, già a partire da tanto tempo, con degli effetti che adesso vedremo. E' singolare, infatti, come la cultura antica e moderna abbia associato sempre comunità e violenza in una forma che pone l'una alla base dell'altra. Tale relazione, comunità e violenza, è al centro delle più rilevanti espressioni della cultura di tutti i tempi, dell'arte, della letteratura, della filosofia, se già i primi graffiti incisi nelle grotte preistoriche rappresentavano la comunità umana attraverso scene di violenza, di caccia, di guerra, di sacrificio, la guerra costituisce il tema del primo grande poema della civiltà occidentale, l'Iliade. Ma il conflitto tra gli uomini, con le sue immagini di violenza e di morte, apre quasi tutte le letterature, da quella ebraica a quella egeziana a quella indiana, a riprova di una connessione avvertita come essenziale e originaria. La stessa idea di origine del genere umano ne è visibilmente connotata. Non soltanto la violenza tra gli uomini è posta all'inizio della storia, ma la stessa comunità appare fondata da una violenza omicida. All'assassinio di Caino, situato dal racconto biblico all'origine della storia dell'uomo, risponde nella mitologia classica l'assassinio di Romolo, al momento della fondazione di Roma. In ogni caso l'istituzione della comunità viene vista legata al sangue di un cadavere abbandonato nella polvere. E non si trascuri il fatto che questi omicidi originari non sono rappresentati come semplici assassini, ma come assassini fraterni, tra fratelli, come del resto nella tragedia greca e quello tra Eteocle e Polinice alle porte di Tebe. Anche in quel caso concluso con un cadavere cui viene negata la sepoltura. E' un elemento questo del rapporto fraterno tra gli assassini su cui conviene fermare l'attenzione. Il sangue che cementa le mura della città è sempre rappresentato come sangue di famiglia nel grande mito classico. Sangue che prima ancora di essere versato già lega indissolubilmente vittima e carnefice. E anzi è proprio questo nesso biologico, questa comunanza di sangue, che sembra determinare il delitto. Ciò attribuisce alla connessione tra comunità e violenza un carattere ancora più intimo, ancora più intrinseco. Nella rappresentazione mitica dell'origine la violenza non colpisce la comunità dall'esterno, ma dal suo interno. Dal cuore stesso di ciò che è comune. A uccidere non è uno straniero in tutti questi racconti mitologici, ma un membro stesso della comunità e anzi il membro della comunità più vicino biologicamente e simbolicamente alla vittima. Coloro che si combattono a morte non lo fanno benché, ma proprio perché fratelli con sanguini accomunati dal ventre della stessa madre. L'autore contemporaneo che ha interpretato con maggiore intensità questo mito di fondazione violenta, non solo il carattere comune della violenza, ma anche il carattere violento di ciò che è comune, questo autore contemporaneo forse è René Girard. Nella sua ricostruzione genealogica, a soggiacere alla violenza più terribile sono appunto i fratelli, anzi i fratelli gemelli, dal momento che la violenza alla sua origine e nel corso della sua storia, ahimè, infinita, è scatenata, dice Girard, da un desiderio mimetico, cioè dal fatto che gli uomini guardano tutti nella stessa direzione, desiderano tutti la medesima cosa o la medesima persona, non solo, ma la desiderano non in sé, in quanto tale, ma appunto perché tutti gli altri la desiderano. Girard intende dire che gli esseri umani si combattono a morte non perché troppo diversi, come oggi tendiamo ingenuamente a credere, ma perché troppo simili o addirittura identici, come sono appunto i fratelli e ancora più i gemelli. Essi si uccidono reciprocamente non per eccesso, ma per difetto di differenza, per un'uguaglianza eccessiva, quando l'uguaglianza è troppa, quando arriva a toccare l'ordine del desiderio, concentrandolo sul medesimo oggetto, ebbene, allora sfucia inevitabilmente nella violenza reciproca. All'origine della filosofia politica moderna, Thomas Hobbes spinge questa connessione tra comunità e violenza al suo punto estremo, facendo nella base il presupposto del suo stesso sistema, a produrre una violenza insostenibile, secondo Hobbes, non è un qualsiasi accidente esterno, ma è la comunità in quanto tale. E anzi, ciò che nell'uomo è più comune, cioè, dice Hobbes, la possibilità di uccidere e di essere ucciso, su questa possibilità riposa la nostra uguaglianza primaria. Gli uomini, prima ancora che da qualsiasi altra cosa, sono uguagliati dal fatto di poter essere tutti indistintamente caronefici e vittime. Qualsiasi uomo può uccidere qualsiasi altro, anche il più inerme, anche il più debole, come oggi vediamo sinistramente accadere in tutti gli scenari terroristici. Pensate a quanti re o presidenti della Repubblica, gli uomini più potenti, sono stati uccisi. Perché? Perché ogni uomo, anche il più debole, ha sempre la capacità, la forza o l'astuzia di uccidere anche il più forte. Gli uomini si temono reciprocamente perché sanno che nessuna differenza, fisica o intellettuale, potrà garantirli dalla minaccia del morte che essi costituiscono l'uno per l'altro. Nelle loro risorse biologiche, tecniche, gli esseri umani sono talmente simili e vicini da potersi sempre colpire. Ognuno ha, almeno potenzialmente, la stessa capacità di uccidere e dunque di essere ucciso da qualunque altro. E perciò che, nello scenario aperto da Hobbes, in questo scenario che io vi sto anticipando, perché è quello che poi consentirà di predisporre il grande dispositivo immunitario, protettivo, in cui oggi ancora siamo immersi, in questo scenario, dicevo, a fare paura non è la distanza che divide gli esseri umani, ma l'uguaglianza che li accomuna in una medesima condizione. Non dunque la differenza, ma l'indifferenza che accosta gli uomini mettendo letteralmente l'uno nelle mani dell'altro. Ebbene, in tutte le ricostruzioni artistiche, letterarie, filosofica, ma anche teologiche, della Genesi, si pensi per esempio al mito della Torre di Babele, a spingere la comunità nel gorgo della violenza e appunto l'indifferenza, l'assenza di un limite, di una barra differenziale che distanziando gli uomini li tenga in salvo dalla possibilità del massacro. La massa, cioè la moltitudine indifferenziata, è destinata in quanto tale all'autodistruzione. Questa è l'immagine che tutti i racconti filosofici e letterari danno della comunità originaria. E questo è il presupposto di questi grandi miti di fondazione, di questi terribili miti di fondazione, che la filosofia moderna non soltanto assume, ma riformula in termini ancora più espliciti, dominato dal desiderio illimitato su tutto e della paura di essere ucciso, l'uomo dell'origine non può che autodistruggersi. Ciò che lo porta ad attaccare gli altri è una sorta di gioco di specchi in cui ciascuno vede la propria aggressività riflessa negli occhi dell'altro, secondo quella sensazione primitiva, ma mai scomparsa del tutto che Sartre avrebbe condensato nella terribile espressione l'inferno sono gli altri. Gli altri, vale a dire la comunità stessa, è l'inferno, cioè il rischio mortale per ogni io, a spaventare gli uomini e perciò a farli scontrare e la mancanza di limiti che li mette a contatto diretto con gli altri, con altri che sono troppo simili per non doversi prima o poi colpire tra di loro. E quindi il punto scuro, il cuore nero della comunità originaria, lo stato di natura, per Hobbes, per esempio, è individuato appunto nella sua illimitatezza, in un'assenza di confini che rende impossibile, prima ancora che la distinzione tra i diversi individui, la definizione stessa della comunità, perché essendo tutto ciò che è, ricoprendo l'intero spazio della vita, questa era la comunità naturale, essa non è definibile secondo il principio di identità, né verso l'esterno né verso l'interno, anche perché, essendo per sua natura sconfinata, senza confini, essa non ha un esterno e dunque non ha neanche un interno. L'elemento che caratterizza la comunità originaria in questi racconti mitologici, ma anche filosofici, è proprio la mancanza di differenza tra interno e esterno. Se torniamo a due tra le più alte rappresentazioni del luogo originario da cui proveniamo, la selva infernale di Dante e la ingens silva di Vico, si vede che entrambi sono illimitate, non hanno nulla fuori di sé dal momento che lo spazio del loro fuori è incorporato nel loro dentro e perciò che chi vi è immerso i personaggi dell'inferno di Dante, i giganti di Vico, non può più uscirne, perché non c'è un fuori in cui rifugiarsi, perché il fuori non è che un'immagine proiettata del dentro, l'inferno è proprio questo, la mancanza di un'esteriorità in cui potersi rifugiare. Ma se la comunità originaria, come è connotata dagli autori che cercano di rappresentarla, non ha limini esterni, non ha neanche limiti tra un individuo e l'altro. Coloro che la abitano, i peccatori di Dante, i giganti di Vico, i lupi di Hobbes, non sono separati tra di loro da nulla che li possa reciprocamente proteggere. Sono letteralmente esposti a ciò che hanno in comune, cioè a loro essere null'altro che comunità, a essere nuda comunità, spogliata di ogni forma. È perciò che la violenza può liberamente comunicarsi dall'uno all'altro. Anzi, la violenza viene vista proprio in tale comunicazione. La violenza, scrive girarsi, è rivelata a noi sin dall'inizio come una cosa eminentemente comunicabile. I classici, moderni e contemporanei colgono questo rischio di un eccesso di comunicazione, una comunicazione che riempia di sé tutto lo spazio del mondo. E questo rapporto intrinseco con la comunicazione non vuole soltanto significare che la violenza della comunità è contagiosa, ma che la violenza reside propriamente nel contagio. Questa è un'immagine che oggi ci viene continuamente proiettata, no? Anche dai media, dai giornali, dalla televisione. Guardate che la violenza è nel contagio, nella contaminazione. Una comunità appunto senza limiti in cui non esiste un confine preciso tra l'uno e l'altro. la violenza assume la forma fluida della contaminazione e il suo canale materiale e simbolico di scorrimento è il sangue. Il sangue, no? È ciò che infetta. Il sangue è ciò che circola, che si inserisce, si insinua dappertutto. Appena si scatena la violenza, scrive ancora Girard, il sangue diventa visibile, comincia a scorrere, e non è più possibile fermarlo. Si insinua dappertutto, si sparge e si spande in maniera disordinata. La sua fluidità concretizza il carattere contagioso della violenza. Il primo sangue, il sangue della prima vittima, una volta versato, infetta l'intera comunità trascinandola nella violenza. E la stessa connessione che anche lo scrittore Elia Scanetti individua tra tatto, contatto e contagio. Hanno tutti la stessa radice, no? Canetti lo riconosce nel leggero tremito che noi proviamo quando avvertiamo di essere toccati da qualcuno che non conosciamo, per esempio in un autobus, no? E noi ci ritraiamo un po' violentemente, perché ciò che ci fa ritrarre è la minaccia simbolica portata alla nostra identità individuale, ai confini che circoscrivono il nostro corpo differenziandolo dagli altri. Ecco, è questo rischio atavico che noi proviamo, il rischio di poter scivolare in quella comunità originaria della violenza di cui abbiamo detto. E' questo rischio che ci fa sobbalzare o fremere di fastidio quando ci sentiamo toccati da un altro, da un estraneo. Si tratta appunto della paura di ricadere in quella comunione, come diceva Vico, di sangue e sperma, in quella comunità senza limiti in cui tutto è possibile, che è nata dalla selva dopo il diluvio universale che precede la storia umana, in cui gli uomini erano ammassati tra loro in una forma che non li differenziava gli uni dagli altri e non li differenziava neanche dal mondo animale. Infatti bestioni li chiamava Vico, come lupi li chiamava Hobbes. E nel discorso filosofico della modernità questa comunità originaria perché priva di identità, priva di confini, a priva destinata all'autodissoluzione perciò ancora ne abbiamo tanta paura sia per Hobbes per Locke per Vico per lo stesso Rousseau una comunità senza limiti senza confini senza differenza non può resistere. Il murus che circola dentro di essa non è un dono di vita ma può trasformarsi in una minaccia insostenibile per i suoi membri. Ecco è contro questa minaccia della comunità originaria che la modernità crea nelle sue dinamiche reali e anche nella sua autorappresentazione un grande apparato di immunizzazione un grande apparato di difesa di protezione come prima ha ricordato Mariolina il concetto di immunitas di immunità è in diretto rapporto con il concetto di comunitas di comunità entrambi nascono dal termine munus ma la comunità in senso positivo affermativo il munus è il dono la legge del dono che ci lega reciprocamente l'immunità invece è la tendenza a disattivare questo dono a mettere qualcuno in una sorta di protezione rispetto alla legge comune qui c'è davanti a me Stefano Rodotà che ha molto lavorato su questo concetto in termini giuridici chi è immunizzato è protetto e separato dalla risorsa ma anche dal pericolo che tutti quanti gli altri invece corrono anche in termini medici è la stessa cosa chi è immunizzato da un male e chi è protetto dal rischio di contagio che esso porta ebbene questa tendenza all'immunizzazione alla protezione già nella società antica era molto forte la società antica assegnava al confine una funzione fondamentale di ordinamento nei confronti della comunità originaria l'unico modo di circoscriverla di appunto limitarla appariva quello di fissare saldi confini di tracciare insuperabili solchi tra uno spazio e l'altro il linguista Emil Bonbenist ha ricordato il rilievo simbolico di questa attività di confinamento identificando in essa il ruolo fondamentale del re del rex vale a dire quello di reggere fines di tracciare confini retti e invalicabili tra una terra e l'altra fines e limes sono le parole attraverso cui gli antichi romani indicavano questa necessità primaria di limitazione dello spazio al punto di fare del termine addirittura un dio il dio terminus la moraglia cinese rispondeva dall'altra parte del mondo a questa stessa esigenza di confinamento di protezione e dunque di esclusione di chi sta fuori perché ogni confine da un lato protegge chi è dentro e dall'altro esclude chi è fuori come ha ben spiegato Carl Schmitt il nomos ha l'iniziale significato di separazione esso instaura si instaura incidendo nella terra la distinzione e anche l'opposizione tra ciò che è mio e ciò che è tuo tra ciò che è nostro e ciò che è vostro fin dalla sua origine si può dire che la civiltà umana si sia esercitata nel tracciare limiti confini barriere ad alzare mura tra un territorio e l'altro ciò che contava per una politica spesso identificata con l'arte militare con la guerra era impedire lo sconfinamento di coloro che abolendo i termini protettivi avrebbero potuto appunto sterminare gli abitanti di quei territori ma se questa attività di delimitazione e di confinamento caratterizza la civiltà umana fin dai suoi esordi il dispositivo immunitario cioè di protezione attraverso confini messo in opera dalla modernità ha una ben altra potenza in una situazione caotica e sanguinosa come quella che alla fine del medioevo caratterizzava la civiltà prima moderna attraverso le guerre di religione che sembravano ricondurre al rischio dissolutivo della comunità originaria di cui abbiamo parlato prima e beh i due dispositivi del diritto individuale e della sovranità statale segnavano il passaggio appunto dal regime del comune al regime del proprio al terribile diritto del proprio e della proprietà Hobbes e Locke sono i primi teorici di questo generale processo di immunizzazione che coinvolge tutte le categorie politiche moderne proprietà sovranità libertà contro la sconfinatezza della comunità sconfinata senza limiti individuo e stato nascono sotto il segno della separazione e dell'autonomia all'interno dei propri confini ormai limiti invalicabili percorrono il mondo intero dividendo i singoli stati all'interno di ogni singolo stato gli individui che lo abitano soltanto questa divisione di ciò che è comune può assicurare la sicurezza assente nella comunità originaria naturalmente questa sicurezza ha un prezzo non irrilevante come tutti i dispositivi immunitari hanno un prezzo nel caso di Hobbes questo prezzo è la cessione al sovrano di tutti i diritti naturali che mette ogni decisione politica nelle mani del sovrano nel caso di Locke questo prezzo è il passaggio dal dominio esercitato da ciascuno sulle proprie cose alla progressiva dipendenza da queste cose stesse quando la proprietà diventa più forte della stessa identità del proprietario e noi diventiamo cose nelle mani delle cose come Marx aveva a suo tempo ben detto questo costo d'altra parte lo dicevo implicito in ogni logica di tipo immunitario la logica immunitaria attenzione funziona sempre in negativo negando la comunità piuttosto che affermando se stessa in termini medici si può dire che la logica immunitaria la logica del vaccino cura attraverso il veleno immettendo nel corpo del paziente uno stesso frammento di quello stesso male da cui intende proteggerlo come se per schivare la morte bisognasse assaggiarne un frammento questa è la logica della vaccinazione e questo è l'esito appunto contraddittorio dell'intero paradigma immunitario attivato dalla modernità per fronteggiare quella rappresentazione della comunità originaria quella connessione tra comunità e violenza che appunto era stata istituita fin dall'antichità e che la modernità ha rafforzato tutt'altro che scomparire la violenza della comunitas viene incorporata dallo stesso apparato repressivo di protezione che dovrebbe abolirla è quello che Walter Benjamin individua per esempio nel funzionamento stesso del diritto inteso non come l'abolizione ma piuttosto come la trasposizione moderna dell'antico rituale del sacrificio vittimario piuttosto che eliminata nel diritto la violenza è assunta in proprio e resa legittima dal potere che dovrebbe vietarla all'inizio vi è sempre un atto violento all'origine del diritto una guerra un'usurpazione che fonda l'ordine giuridico poi una volta fondato il diritto tende a escludere ogni altra violenza esterna alle proprie procedure legittime ma può farlo solo attraverso una minaccia di ulteriore violenza quindi in questo modo Benjamin può concludere che il diritto è un'immagine forzata ma tutti i grandi filosofi forzano le cose estremizzano le cose il diritto per Benjamin non è altro che violenza alla violenza per il controllo della violenza questo è il fondo nascosto rimosso dell'antico potere sovrano di vita o di morte anche quando il sovrano sembra deporre quel diritto di morte anche in quel caso infatti esso da un lato il sovrano esercita la giustizia senza che i sudditi per esempio in Hobbes possano opporsi alle sue decisioni dall'altro può anche sospendere il diritto nello stato di eccezione e la sua volontà può anche travalicare l'ordine giuridico che pure egli rappresenta del resto il sovrano è sempre libero di dichiarare guerra agli altri stati spostando la violenza dall'interno dei propri confini al suo esterno fin qui tuttavia in fondo non siamo che una prima tappa del processo di immunizzazione moderno essa in una fase iniziale essenzialmente volta a garantire l'ordine rispetto al conflitto che minaccia di dissolvere la società ma la sua funzione e anche la sua forza la sua intensità subisce un netto mutamento quando si determina quella generale svolta che per primo Michel Foucault ha caratterizzato con il termine di biopolitica nel momento in cui la politica assume la vita biologica ad oggetto diretto delle proprie dinamiche il paradigma immunitario ha un sperimento un salto di qualità che lo porta al centro di tutti i linguaggi dell'esistenza individuale e collettiva la sempre maggiore importanza che già alla fine del XVIII secolo acquistano le pratiche le politiche sanitarie demografiche urbane nel governo della società segna questo incremento del processo di immunizzazione da quel momento la vita umana cioè il corpo stesso degli individui e delle popolazioni diventa la posta in gioco di tutti i conflitti politici decisivi adesso lo vediamo anche a occhio nudo i grandi conflitti politici riguardano tutti il senso di che cos'è la vita umana il modo di conservarla il modo di guarirla il modo di svilupparla il modo di produrla come Gianni ci aveva detto guardate che di qui a poco il centro dei conflitti tra gli uomini sarà la questione di che cos'è la vita umana a quel punto non soltanto la medicina ha acquistato un ruolo sempre più politico ma la stessa politica finisce per parlare un linguaggio medico o addirittura chirurgico ogni possibile degenerazione del corpo ricordate gli anni 30 e 40 del secolo scorso in Germania e non solo in Germania ogni possibile degenerazione del corpo va preventivamente evitata attraverso l'eliminazione delle sue parti infette e mai come in questo caso quindi è evidente l'esito contraddittorio che si determina nel processo di immunizzazione nato per proteggere la vita dalla sua possibile deriva comunitaria per così dire diventa il processo immunitario ciò che può addirittura prescriverne la distruzione come è noto il nazismo ha costituito l'apice catastrofico di questa deriva una volta assunta la vita di un singolo popolo come valore ultimo e assoluto da difendere e potenziale è risultato naturale che a quella vita di quel popolo venisse sacrificata la vita di ogni altro popolo razza che appariva a contaminarla dal suo interno e quindi nato per contenere la potenziale violenza della comunità originaria quella violenza che era stata interpretata come la caratteristica della comunità eliminando invece l'elemento affermativo positivo vitale della comunità nato per contenere quella minaccia creata dai grandi racconti mitologici e letterari il paradigma immunitario è diventato un pericolo oggi forse addirittura superiore di quello che vuole contenere i confini inizialmente istituiti per circoscrivere il territorio sovrano degli stati oppure per proteggere il corpo individuale dei singoli cittadini vengono quei confini a un certo punto impressi come soglie escludenti all'interno dello stesso bios della stessa vita umana per dividere una parte dichiarata superiore da una parte considerata inferiore al punto di essere non degna di essere vissuta come suona il titolo triste e sinistro di un antico manuale diogenetica nazista i 50 milioni di morti con cui si chiude la seconda guerra mondiale segnano il punto culminante di questo processo apocalittico e oggi contrariamente alle illusioni di chi ha pensato che la sconfitta del nazismo e poi a 40 anni di distanza la sconfitta del comunismo portasse a un indebolimento di questi dispositivi immunitari di protezione l'ultimo ventennio li ha ulteriormente potenziati quel nodo tra politica e vita che aveva portato nel suo stravolgimento al nazismo anche se certo modificato nelle sue modalità nei suoi fini beh quel nodo appare oggi ancora più stretto davanti a noi mai come oggi la richiesta di sicurezza è diventata una vera sindrome ossessiva non si tratta solo di un incremento della soglia di attenzione nei confronti del pericolo piuttosto è come se si fosse rovesciata la normale relazione tra pericolo e protezione non è più oggi la presenza del rischio a determinare esigenza di protezione ma è la richiesta di protezione a generare artificialmente la sensazione o la creazione di rischio dopo tutto è in fondo la logica delle compagnie di assicurazione produrre un sempre maggior timore di rischio per aumentare l'entità della protezione naturalmente perché questo meccanismo di ricarica tra protezione e rischio potesse girare a velocità sempre più forte beh è dovuto intervenire qualche cosa nel mondo contemporaneo sì infatti sono proprio questi i decenni che segnano l'avvio in grande stile di quella grande dinamica a cui si è dato il nome di globalizzazione ciò che va segnalato in rapporto alla globalizzazione è la sua affinità strutturale anche simbolica con i caratteri che la filosofia moderna aveva conferito alla comunità originaria ricordate una comunità rischiosa perché senza confini senza limiti interni quel mondo caotico e ingovernabile inferno selva stato di natura contro cui si era definito l'ordine politico moderno e beh quel tipo di sconfinatezza sembra oggi riprodotta dall'immagine della globalizzazione dello sfondamento di ogni confine statuale simbolico tra linguaggi tra tecniche come la comunità originaria la globalizzazione non è tanto uno spazio quanto un non spazio nel senso che coincidendo con l'intero globo non prevede un esterno e un interno nel mondo globale non c'è più interno esterno come la comunità originaria come quella immagine cui abbiamo fatto riferimento della comunità originaria la globalizzazione è sconfinata non ha limiti né termini è un insieme fluido e invertebrato destinato a spingere il mondo in un movimento in una mobilitazione perenne non più differenzabile tra nord e sud est e ovest occidente e oriente il mondo globale vede questi spazi compenetrarsi sovrapporsi a vicenda sotto l'urto di continue migrazioni che sfondano ogni confine tutto ciò mentre sul piano finanziario e tecnologico i flussi della finanza e dell'informatica circolano nell'intero globo in tempo reale se la comunità originaria come immaginata da Hobbes Locke Vico era una comunità sfrenata senza freni ebbè nulla pari oggi più sfrenato di quanto sia la globalizzazione anche la globalizzazione determina un'infinita comunicazione contaminazione contagio tra uomini popoli linguaggi ormai sovrapposti e compenetrati al punto di abolire ogni differenza e contro questo inarrestabile contagio che lavora con sempre più potenza il dispositivo immunitario contemporaneo come il dispositivo immunitario moderno era stato creato per contenere il rischio della comunità originaria così oggi il rischio della globalizzazione è affrontato dalla costruzione di un nuovo e ancora più potente dispositivo di immunizzazione e come in termini medici potremmo definirla un'azione di rigetto quanto più i gruppi etnici religiosi linguistici entrano in contatto tra di loro invadendo i reciproci spazi tanto più si determina una spinta opposta a un nuovo localismo a una nuova chiusura identitaria mai sono stati elevati all'interno del mondo tanti muri come dopo la caduta del grande muro simbolico di Berlino mai come oggi quando il mondo è tutt'uno si sente il bisogno di tracciare nuove linee di blocco nuove reti di protezione in grado di arrestare o ritardare l'invasione degli altri la confusione tra dentro e fuori interno e esterno noi e loro e beh l'effetto potenzialmente catastrofico di questo stato di cose di questo intreccio perverso tra globale e locale non ha tardato a manifestarsi gli eventi successivi all'11 settembre 2001 segnano quella che ben si può definire una devastante crisi immunitaria intendendo con questa espressione qualcosa di non lontano di quella che Girard definiva crisi sacrificale cioè un'esplosione del meccanismo vittimario che si propaga a macchia d'olio sull'intera società inondandola di sangue ciò che è successo in questa guerra che si combatte nel mondo attualmente è una rottura del sistema immunitario che fino agli anni 80 aveva tenuto insieme il mondo attraverso la minaccia della bomba atomica ricordate anche quello era un sistema immunitario la rottura di quel sistema ha gettato il mondo in un rischio potenzialmente ancora maggiore la fine di quel sistema immunitario della guerra fredda ne ha prodotto un altro forse ancora più rischioso perché situato tra un fondamentalismo islamico in cerca di rivincite sull'occidente e un certo fondamentalismo occidentale spesso altrettanto fanatico che solo in quest'ultimi mesi sembra dar luogo forse a una logica meno suicida al di là dell'Atlantico ancora una volta l'eccesso di immunità pare produrre può produrre ancora più violenza di quanto riesce a risparmiare mai come oggi i diritti universali appaiono sì proclamati ma con proclamazioni prive di significato reale mai come oggi al culmine della stagione biopolitica il primo dei diritti umani il diritto alla vita appare tradito e smentito da milioni di morte per fame malattia guerra in larga parte del mondo quanto più la globalizzazione produce i suoi frutti spesso avvelenati l'ultimo dei quali è questa crisi economica che abbiamo sotto gli occhi tanto più le frontiere sembrano chiudersi davanti a coloro che cercano riparo e sussistenza fuori dai propri paesi d'origine ma attenzione attribuire alla globalizzazione la responsabilità di questo stato di cose o addirittura pensare di bloccarla ripristinando i vecchi confini sovrani non può portare da nessuna parte come già era accaduto con la comunità originaria quando si tentò di dividere il mondo lo spazio del mondo con frontiere invalicabili anche gli attuali tentativi immunitari di neutralizzare le dinamiche di globalizzazione sono destinati al fallimento intanto perché impossibili non si torna indietro nella storia e poi perché anche se fossero possibili sarebbero controproducenti cioè destinati a potenziare a dismisura lo stesso conflitto che vorrebbero sedare come per la biopolitica anche per la globalizzazione ogni ritorno indietro è impraticabile oggi solo la vita la sua conservazione il suo sviluppo il suo miglioramento può costituire fonte di legittimazione politica ogni programma politico che non ne tenesse conto che spostasse il proprio obiettivo dal corpo materiale degli uomini e delle popolazioni verrebbe spazzato via nel disinteresse generale ma ciò non vuol dire esattamente come per la globalizzazione che il regime biopolitico oggi dominante sia l'unico possibile ciò non significa che non si debba lavorare dopo decenni di biopolitica negativa di tipo immunitario ad una biopolitica affermativa capace di entrare in sintonia proprio con quella nuova forma di comunità che è la globalizzazione ciò che andrebbe fatto non solo per la politica ma anche sia pure con tempi e modi diversi per la filosofia io credo è pensare politica e globalizzazione l'uno dentro l'altra rovesciare quell'antica immagine della comunità violenta della comunità che porta morte in un'immagine in cui al centro della comunità vi sia la produzione della vita stessa d'altra parte nulla è più globale della vita umana lo stesso mondo oggi unificato ha assunto la forma di un corpo biologico che non può essere colpito in una sua parte senza che quella ferita si rifranga in tutte le altre parti oggi il mondo è tale che o vive tutto insieme o muore tutto insieme non è più possibile separare una parte privilegiata e abbandonare il resto in questo senso il sistema immunitario del mondo non può più funzionare producendo violenza e morte deve farsi esso stesso custode produttore di vita non barriera di separazione ma filtro di rapporto con ciò che preme al suo esterno io credo che il punto decisivo per concludere ma è anche il problema della massima difficoltà naturalmente sta appunto in questo rovesciamento di 180 gradi della nostra prospettiva prima ancora nel nostro cervello prima ancora che nel mondo reale al resto il pensiero è tale quando riesce ad anticipare e anche sul tempo lungo influenzare ciò che sta accadendo è evidente che senza un qualsiasi tipo di sistema immunitario il mondo così come anche ogni nostro corpo non potrebbe reggere ma come appunto dimostra il sistema immunitario dei nostri corpi l'immunità non è detto che vada intesa in contrasto con la comunità bisogna tornare a quell'elemento che tiene insieme i due concetti il munus inteso come donazione reciproca e alterazione dell'identità dobbiamo riuscire a pensare insieme unità e differenza comunità e immunità anche se per secoli e per millenni questi due principi sono stati contrapposti certo la comunità ha sempre rinviato all'identità e all'unità così come l'immunità ha sempre rinviato alla separazione e alla differenza la storia del mondo è interpretabile lo dicevi prima anche tu almeno fino adesso come la lotta senza esclusione di colpi tra questi due principi contrapposti comunità e immunità oggi si tratta io credo di metterli in tensione reciproca di ricondurre la comunità alla differenza e l'immunità alla contaminazione come del resto avviene nei nostri corpi in tutti i trapianti di organo consentiti e anzi favoriti da quella che si chiama tolleranza immunitaria naturalmente tradurre nella realtà queste che possono apparire e che sono formule filosofiche non è facile ma nella storia del pensiero e anche nella storia degli uomini prima di realizzare qualcosa si è dovuto a lungo pensarla e ripensarla ecco e in questa direzione e intrecciandosi con quello di tanti amici che cerca di andare il mio lavoro di questi anni grazie 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 grazie